eccoci testa del rutor oggi la grande si spalla un po su comoda strada fino alle capanne di adviel circa 300 metri dall'auto si mettono gli sci dopo 250 metri appena messi rampant per affrontare questa zona un po ghiacciata dobbiamo arrivare a quel colletto lì 2009 40 sono arrivati a questo bel colletto anche piccolo annullamento primaverile oggi quasi 1600 metri di slivello non abbiamo incontrato nessuno però molti sciapinisti che ormai abbiano messo gli sci in cantina ecco il rifugio questa nuvola che sta salendo nota 3003 terminata questa parte ripida smuchiamo su questo colletto c'è un polverone pazzesco che però si sta facendo zoccolo sugli sci perché prima la neve era parecchio bagnata sulla cresta finale ma in fondo si vede la vetta matato matato yeah quasi mille si vede col letto dove dobbiamo risalire ma in fondo solo pochi metri per arrivare al colletto non servono nemmeno i ramponi credo non servono nemmeno i ramponi credo non servono nemmeno i ramponi credo eccoci qui si vede la strada sterrate che dobbiamo raggiungere poi da lì penso che spalleremo e dopo dobbiamo arrivare sotto a quella strada là vuota 2000 esatti è finita la nostra gita adesso dobbiamo scendere 400 metri eccoci arrivati qua qua da 1530 facciamo l'autostop eccoci arrivati qua